Il tennis è cambiato molto nel corso degli anni. È diventato più veloce ed è aumentato fortemente il carico a cui sono soggetti giocatore e racchetta. Durante un servizio la racchetta deve subire forze enormi fino a 50 kg. Se la racchetta ha una struttura debole, subisce vibrazioni incontrollabili che impediscono di tirare colpi precisi. Quindi, soprattutto nei colpi decentrati, è estremamente importante la stabilità. Per la realizzazione di racchette da tennis, come nell'aeronautica e in Formula 1, si predilige il carbonio. Minimi cambiamenti nel posizionamento delle fibre di carbonio concedono agli ingegneri una vasta gamma di possibilità di influire sulle caratteristiche di gioco di una racchetta. La lunga esperienza del reparto ricerca e sviluppo di head e la passione per il tennis sono elementi fondamentali nella realizzazione delle racchette. Oggi tutte le racchette head sono progettate con il recentissimo software 3D che conferisce al prodotto finale un design giovane e fresco. Attraverso l'utilizzo del set di dati ottimizzato, si valuta definitivamente la geometria della racchetta utilizzando una macchina per prototipi. Grazie al recente software di simulazione 3D, è possibile analizzare con precisione e ottimizzare il comportamento della racchetta mentre è esposta a diverse forze. L'interno di ogni racchetta è costituito da singoli strati di fibre di carbonio. Diversamente dall'acciaio, basta variare la sistemazione delle fibre per modificare le caratteristiche del materiale. Le fibre in carbonio sono il materiale di base di tutte le racchette moderne. Il carbonio è già impregnato di resina e si conserva a meno 15 gradi Celsius. In base al progetto ricavato da simulazioni, misurazioni e dalla grande esperienza dal carbonio non ancora indurito, si ritagliano singoli segmenti detti pre-preg. Nella fase successiva, questi tasselli vengono posizionati con precisione, cambiando l'orientamento delle fibre di carbonio, è possibile realizzare oltre 10.000 racchette con caratteristiche di gioco diverse. Il carbonio viene ora avvolto attorno a una barra di acciaio. Si sagoma la struttura tubolare in carbonio a forma di racchetta usando uno stampo di acciaio. In determinati punti vengono aggiunti svariati nuovi tasselli pre-preg. La racchetta presagomata viene posta in uno stampo di acciaio fresato e riscaldata a 160 gradi dentro una pressa. Contemporaneamente si applica una pressione di 10 bar che spinge gli strati di fibre di carbonio verso l'esterno contro le pareti dello stampo. Nel telaio si realizzano con alta precisione i fori dei passacorde, impiegando speciali trapani per metalli duri. La vernice e la rifinitura concedono alla racchetta un design speciale head. Attorno al guscio ergonomico dell'impugnatura si applica un grip che assicura ottima presa. Un fattore fondamentale per le caratteristiche di gioco è la tensione dell'incordatura. Tale tensione è variabile a seconda delle preferenze del giocatore. In laboratorio si controllano tutte le racchette per testarne la qualità head. Durante l'intero processo di sviluppo, head testa tutte le nuove racchette per centinaia di ore avvalendosi dei suoi giocatori top. Il feedback degli atleti è di enorme importanza per apportare modifiche e adeguamenti alle racchette prima che esse vengono immesse sul mercato. I professionisti head approfittano di un servizio speciale. Tutte le loro racchette vengono infatti adeguate allo stile di gioco individuale. E questo servizio è ripagato dai successi dei campioni head sui grandi campi centrali del circuito tennistico. Mi piace muovermi veloce e giocare in modo aggressivo. Questa racchetta mi aiuta molto. Posso colpire alte velocità e giocare bene su tutte le superfici di campo. Sull'erba posso ottenere più spin, mentre sulle superfici dure acquisto maggiore velocità. Insomma, posso scendere in campo e tirare colpi vincenti. Ho ricevuto ottimi feedback dagli specialisti di head. Siamo come una famiglia. La racchetta Prestige mi dà il mix migliore di potenza e controllo. Sì, la Prestige mi ha aiutato molto a migliorare il mio gioco. Colpisco sempre duro la palla, ma devo anche mandarla dentro il campo. E in questo la mia Prestige mi dà grande precisione e supporto. Ho un ottimo rapporto con head. Infatti gioco con racchette head da molti anni. Non so più precisamente da quanti, ma già quando avevo solo 13-14 anni, l'intero team head mi sosteneva molto. Basta il nome della racchetta. Extreme. Per dire tutto. Spin estremo. Velocità estrema. Tennis estremo. Così l'ho scelta e naturalmente anche il nuovo design è molto aggressivo. La racchetta unisce in sé proprio tutto quello che mi piace. È una delle più veloci, se non la più veloce del circuito. Per me è stato fantastico lo sviluppo della racchetta. Sentivo che stava migliorando costantemente. Sono convinto che la versione 2011 sarà migliore di prima e sono sicuro che i risultati lo dimostreranno. Amo la mia racchetta Radical. La uso ormai da 8-9 anni. La racchetta dà ottimo controllo, potenza e mi consente di variare molto il mio gioco. Mi ricordo quando a 13 o 14 anni avevo già provato la Radical e l'avevo trovata fantastica. Da allora non l'ho mai voluta cambiare. Con questo procedimento, Head produce oltre 2 milioni di racchette l'anno, di cui circa 7500 sono personalizzate per i professionisti Head. Per Head, infatti, una cosa conta più di qualsiasi altra. Offrire ad ogni tennista la migliore racchetta per il suo stile di gioco individuale. Grazie. 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 Grazie.